oggi ci troviamo a via lorenzo montani per la precisione traversa di via della villa questo è il palazzo dell'immobile che andremo a vedere posto all'ultimo piano attico quelli sono le finestre di pertinenza dell'immobile e come potete ben vedere qui abbiamo anche un posto moto assegnato ci troviamo in un contesto residenziale a due passi dal centro del paese con tutti i servizi a portata di mano questo qui è l'ingresso della proprietà dove entrando noterete sicuramente degli spazi molto luminosi e ben distribuiti qui abbiamo un cammino completamente funzionante e la zona pranzo con l'angolo cottura e la faccio sulla terrazza che parleremo successivamente procedendo di qua arriviamo nella zona giorno anche questo spazio molto grande e con un'ampia finestra che concede molta molta luminosità procedendo di qui entriamo nella zona notte dove sono dislocate due camere e un bagno una di fronte dall'altra qui la prima camera con cabina armadio e accesso sul balconcino questa è la vista che ci sta da questo balconcino e qui entriamo nella seconda camera da letto senza lo sfogo sul balconcino ma con una finestra anche qui abbiamo una cabina armadio molto molto grande arriva fino in fondo ed infine conclude la proprietà questo bagno con piatto doccia come vi dicevo precedentemente da qui qui abbiamo l'ingresso per l'ampia terrazza con una vista spettacolare che dà su tutta la campagna di formello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti